Lettera aperta del sindaco di Ispica, Pierenzo Muraglie, che ripercorre i quattro anni passati a Palazzo Bruno e lancia un nuovo progetto politico aperto che include a nuove forze politiche e a movimenti civici. E allora, sindaco, con questa lettera aperta di fatto ti candidi a governare la città di Ispica per altri cinque anni? Sì, ritengo prima di ogni altra cosa doveroso sottopormi al giudizio dei miei concittadini per essere valutato e quindi giudicato sulla scorta di ciò che è stato fatto durante questa bellissima esperienza di governo e di amministrazione della città. Sono stati quattro anni entusiasmanti, quattro anni intensi però dove abbiamo davvero affrontato tanti problemi. Li ho definiti quasi unici perché è difficile spesso trovare anche precedenti nella storia. Ho servito questa città con grande amore, con grande sacrificio, con grande senso di responsabilità. E oggi mi ripropongo alla guida della comunità con un progetto nuovo, un progetto diverso, civico, che supera le dinamiche e le logiche dei partiti. Un progetto capace di coinvolgere tutti coloro i quali amano veramente la città e quindi tutti coloro i quali sono pronti a spendersi in modo generoso, in modo appassionato per continuare questa opera di servizio. Servire la città, la nostra comunità per costruire una città migliore e donare quindi ai nostri figli e alle giovani generazioni un futuro migliore. Questo è l'imperativo categorico che dobbiamo concretizzare. Sindaco, una domanda chiara che effigge una risposta altrettanto chiara. Questa apertura alle altre forze politiche e movimenti significa anche l'impasto in giunta? Sì, ci saranno dei cambiamenti, siamo già al lavoro per apportare le modifiche, i cambiamenti necessari che saranno utili e funzionali ad affrontare le problematiche di questo ultimo anno o poco più di mandato. Oggi in Consiglio Comunale la maggior forza politica che sostiene l'amministrazione, Pierenzo Muraglie, è il Partito Democratico. In questo partito hai avuto ruoli dirigenziali, ti sei candidato alle primarie del Partito Democratico, il Picese vincendole. Allora Pierenzo, cos'è che non va oggi con il Partito Democratico? Nessun problema con il Partito Democratico, anzi, rivendico con orgoglio il percorso fatto all'interno del Partito Democratico in questi anni. Ringrazio Pierenzo Muraglie, Piero Giunta per Radio Dimensione Musica.